Benvenuti a tutti sul canale LeNewsKeyWe2, vediamo oggi che notizie ci sono. Partenza sprint per la puntata del pranzo servito andato in onda ieri 20 luglio su Rai 1. A sorprendere i telespettatori è stata una frase di Flavio Insinna. Dopo aver interrogato i concorrenti su un oggetto inusuale che si può utilizzare in cucina, il conduttore ha mostrato una sorta di molla. Tra tentativi e indizi il campione Luca ha di indovinare. È uno schiaccianucci. Risposta corretta Insinna mostra il funzionamento dell'oggetto misterioso. Bambini, non lo fate a casa, è pericolosissimo e sordito. E' poi ancora ironico, ci siamo feriti in quattro per provarlo. Sto scherzando, ma gli autori mi hanno chiesto di provarlo e ho detto di no, non lo fate. Ha concluso tra le risate dei presenti in studio. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie. 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 Grazie.